I parcheggi a Piedimonte Matese, sempre più nell'occhio del ciclone, troppo cari, troppo pochi, quelli gratuiti, troppe le strisce blu a pagamento, troppi distanti dai punti nevralgici, quelli gratuiti. A ciò bisogna aggiungere spessissimo la poca cortesia di chi li gestisce, che in pratica detta poi i ritmi della città. Trovare un parcheggio non è facile perché si trova lontano, spessissimo scade il tempo e sei costretto a correre, ma inevitabilmente arrivi in ritardo. Puntualmente arrivi invece alla multa. Qualche volta sono gli stessi parcheggiatori a farti trovare il bollettino attaccato al vetro pronto da pagare, ma non è legale, perché è scaduto il tempo da qualche minuto. Poi c'è chi si ribella e fa ricorso. Insomma, alla fine la gente chiede più parcheggi comodi e più parcheggi gratuiti e un po' di cortesia in più. Non chiede certo la luna e poi dice che uno va ai centri commerciali. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it